Dopo una giornata fatta di lavoro, faccende di casa e studio, il meritato riposo rappresenta da sempre e per sempre una parentesi fondamentale da ritagliarsi per ricaricare le energie. Massimo Relax è dunque la parola d'ordine che muove il lavoro delle più rinomate case di arredamento made in Italy, che sempre più al passo con i tempi sono chiamate a perfezionare il proprio prodotto, per rispondere alle sempre più esigenti richieste del mercato. Gli italiani che hanno sempre meno tempo di rilassarsi e che dunque intendono ottimizzare il proprio tempo puntando più che sulla quantità di riposo, sulla qualità. Lo sa bene la famiglia Conconi, la cui azienda con sede a Casa Massima festeggia i 13 anni di attività forte dei numeri del suo portafoglio clienti, 10.500 in tutto, come sottolinea Mario Conconi. Oggi siamo un'azienda con un grande obiettivo di crescita, cerchiamo di fare del nostro meglio al punto che stiamo per aprire un nuovo showroom a Casa Massima in via San Michele abbastanza importante, dove daremo più spazio e lustro a quelli che sono i nostri prodotti, ai propri clienti. Conconi e arredamento da 12 anni presente in fiera, un'occasione importante per far conoscere la cultura del relax, complementi di arredo con il massimo standard qualitativo, frutto dell'accurata scelta delle materie prime e della produzione sartoriale totalmente italiana. Sì, è una grande soddisfazione essere presenti anche quest'anno alla 77esima fiera dell'Evante. presentiamo chiaramente il nostro prodotto ed è quello che appunto la nostra azienda è nata grazie al materasso e quindi abbiamo tutta la gamma dei nostri materassi in lattice e memory. Sentiamo anche la gamma dei divani idrorepellenti in tessuto e che appunto con dei modelli moderni, classici, contemporanei. Gli obiettivi della Conconi Casa sono appunto quelli che ogni anno di migliorare sempre di più le esigenze di tutti i nostri clienti e dare sempre il meglio dei nostri prodotti.